Ciao a tutti e benvenuti in questa prima puntata di Dead Rising 2 Sandbox Mode Cominciamo subito Allora, ve l'avevo detto, mi spiace di aver perso 3 mesi Non perso 3 mesi, ma vabbè, dovevo finire prima metro Ma comunque adesso ci siamo La Sandbox Purtroppo, boh Ah, vabbè, i dati si sono persi perché avendo cambiato PC dall'ultima volta che ho giocato a questo La qualità dei video sarà più alta del primo Dead Rising Questa volta sarà veramente 1280x720 con anche la vita Riuscirete a vedere che muoio E... niente Modalità Sandbox Non c'è tempo, ci sono i sopravvissuti in giro e bisogna completare le sfide Il nostro obiettivo sarà ottenere almeno bronzo su tutte le sfide Che altro dire? Cominciamo Scoop Bella musichetta Ok Allora, punto di controllo Va bene, quando vedi è scritto punto di controllo Ho raggiunto punto di controllo Salvo spesso Sì, interrompo l'alimentazione In teoria non dovrebbe laggare Ma la teoria non è mai stata al mio forte Chiave No Adesso me ne faccio da botte Non voglio la sedia alta e il rover Whisky Whisky Carte da gioco Non me ne faccio niente, infatti voglio la sedia alta e il rover Vieni qui Madafaga Mori No, non mi faccio niente di questo Mori 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 Anche tu Eh, qui c'è una missione Allora, nella modalità sandbox gli indicatori delle sfide sono sparsi in tutta la città Completa le sfide e riceverai dei premi in denaro Più alto sarà il tuo punteggio, più soldi riceverai Premi X nella mappa per ottenere informazioni sulle cose Va bene Sfida Uccidi più zombie che poi in 30 secondi 10 uccisi, 5.000, 20, 40 uccisi Facciamo il possibile Vai, 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 vai La vede dura, eh, perché con questi oggetti Beh One hit, one kill, quindi Mazzuola, mazzuola Vieni qua Dietro No, sono ancora 9 uccisioni 10 Ah, lasciami andare Boom Eh no Purtroppo Eh, più di 15 non è difficile È difficile, quando avremo più oggetti sarà molto più facile Kaboom Au Ok, leviamoci dal tetto Salta Salta Connetto di VLC Quanto tempo Vieni qua Aia Vieni qui Connetto Quanto tempo Te Oh Come si faceva a usare la fotocamera Eh boh Mi ricordo Si va giù Silver strip Allora Adesso cerchiamo Degli oggetti buoni da combinare Poi combiniamoli Perché ci servono delle armi un po' più potenti Con questa qui non Facciamo nulla C'è niente Dove siamo? Allora, siamo a silver strip Ce ne sono Ah, sono pure bloccate Quindi dobbiamo andare a cercare quelle che sono Uccidi altri zombie Ah, ok Quindi si sbloccano uccidendo altri Uccidendo zombie Quindi Più ne uccidiamo Meglio è Qui c'è Siamo di fianco a una sala manutenzione Ottimo Quindi vediamo di ottenere un paio di oggetti Combinabili Facchio Oh, ora non dovrebbe più laggare Oh, non lagga quando uso sto coso Finalmente Congelati, grazie Ecca boom Tanto ne devo uccidere altri 50 Quindi Tanto vale parlo adesso Aia No, 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 no Lasciami andare Merda Fuck you Meglio la mazza da baseball Tira giusti cose Usiamo uno snack Vieni qua No Ma porca Vai giù Come si correva? Non si poteva Eccolo qua Uno snack Grazie Grazie Molto gentile Ah, mela Niente di utile Non c'è nessuno È sbloccata o? Ehi Gordon Aia Ma brutto figlio di Ah, è vero che c'era scritto che erano impazziti e tipo ci attaccavano Aia Un po' stronzo qua Mori Mori Dai Buono Allora, ho visto una pala Qua sopra Ne si troviamo Cos'è che era? Motosega? Pala e motosega? Vediamo Magari qua dentro C'è già Dimmi che c'è una C'è una motosega Perfetto Allora Pala e motosega La musichetta So Yeah Abbiamo creato La moto bagaia Ok, grazie No Ah, non volevo dropparla Scopa i macete, giusto? Epp Ma No, non i guanti Il macete Epp Salta Ok, allora Motosega 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 È vero che non posso tenerla in mano Cioè, devo per forza tenerla in mano Come funziona? Posso farla, sta sfida? 35 zombie Eh, però la moto bagaia la voglio tenere Non voglio sprecarla Perché potrebbe essere molto utile 34 3 30 No, sono vivi Ehi, c'è un negozio Oh, tubo di piombo molto utile per eliminare zombie Posso entrare? Sì, posso Ok No 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 Oh, perché? Perché? Fammi andare a vedere cos'altro c'è perché questi vestiti sono abbastanza inquieti Ok Eh, già Uh, questo è la bonus Non mi sbaglio Perché? Non voglio saperlo No Eh, vabbè Direi che siamo costretti a stare così Oh, ma che cazzo Fuck you Il metodo tifoso Che bello Bello, bello Mi piace questo Mi serve del cibo, però E mi sto allontanando sempre di più dalla missione Una pistola Non ne faccio niente, però Niente? Sì, una mela Uno snack Sempre gli snack Non ne faccio nulla degli snack Non danno un cacchio Ok, torniamo alla motopagaia C'è nient'altro Ecco perché mi piaceva questa cosa Multikill Fuck you Fuck you Fuck you Dovrebbe quasi essere sbloccata Ah, perché? E l'hombo qua dentro Yes Sbloccata Ottimo Ah, c'è anche l'indicatore Ottimo, ottimo, ottimo Molto comodo Mi serve del cibo Vabbè, posso usare questo Prendiamo la motopagaia Sfida Ottieni più pipì che puoi in 60 secondi Ho una motopagaia Ok Get ready for the next battle La musica anche Venite qua Facciamo il prato Merda, si sta rompendo 5.000 ottenuti Dai, puntiamo all'argento Tuttavolta Aspetta, aspetta La faccia quanti danno Ah, tanti zombie e non mi lagga Che bello Finalmente No, 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 dai, 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 dai Non ce la faremo mai Dannazione, servono le armi tipo esplosive qua per fare tanti danni Vabbè, 10.000 10.000 Bronzo Bronzo Non c'è Niente di che Si è rotto ok